Ciao a tutti carissimi e benvenuti ad un altro episodio della rubrica Creazione Indipendenti in cui ogni lunedì vi illustro un modo per fortificare la vostra piattaforma online o anche solo iniziare a crearla. Questo è il quarto episodio della miniserie che ho deciso di creare intitolato I segreti degli autori self di successo. Ho analizzato in un episodio precedente Carmen la terza, in un altro episodio ho analizzato Rita Carla Francesca Monticelli oggi analizzo Lanciotti che è un'altra persona con cui ho avuto la fortuna di collaborare in passato sotto forma di intervista, ho intervistato Stefano sul mio podcast Credicrea e partiamo da un breve profilo della figura dell'autore, Stefano Lanciotti come sempre è un ingegnere e scrittore nato nel 1967, a 10 anni ha scritto la sua prima opera ovvero un libro di fantascienza. Pur coltivando la passione per la scrittura, dopo liceo scientifico Stefano ha scelto di partecipare alla facoltà di ingegneria elettronica e dalla laurea lavora nel campo dell'informatica e della sicurezza. Stefano è un autore ibrido e per chi non sapesse cosa vuol dire autore ibrido vuol dire che pubblica o ha pubblicato da punto di vista self, quindi come self publisher o sotto l'ala di una legacy publisher, quindi una casa di pubblicazione tradizionale quindi questo vuol dire autore ibrido, viste le sue esperienze con editori quindi importanti come Newton Compton, ma nasce quindi come self publisher e continua ad essere con i suoi titoli fantasy come il romanzo Ex Tenebris che è parte della sua serie notturnia che è stata poi selezionata da extravergine d'autore come romanzo in diete qualità e la serie ha scritto anche la profezia del ritorno e questi sono soltanto alcuni esempi ho scritto molto di più, ma i suoi libri comunque hanno venduto decine di migliaia di copie analizzeremo questa componente delle decine di migliaia di copie e come è riuscito a farlo in un modo molto particolare, Stefano è anche amante dello sport, è tuttora pratica la scherma a livello agonistico. Ora andiamo nel juice, andiamo nel succo della faccenda che cosa rende Stefano Lanciotti speciale, che cosa fa in modo che sia entrato nella mia questa miniserie, il successo degli autori self. Dunque la prima cosa che voglio sottolineare è che Stefano è uno dei pionieri del self publishing italiano che cosa vuol dire questo? Che è stato uno dei primi a pubblicare in Italia indipendentemente quindi a cavallo nel 2011-2012 quindi come ho detto ha iniziato a pubblicare a cavallo tra questi due anni quando ancora, pensate, non esisteva neppure la parola autopubblicato quindi è uno dei precursori, proprio i primi questo è un elemento su cui torneremo che fa di Stefano Lanciotti un autore self particolare che ha contribuito anche per sua affermazione a suo successo. Altra cosa quindi collegata è che il fattore tempo lo ha vantaggiato quindi il fatto di essere uno dei primi a pubblicare prodotti di qualità gli ha permesso di essere notato da altri anche su questa cosa ricordate questi due punti perché ci torneremo pioniere self, fattore tempo terzo punto molto importante è che quando è iniziato aveva già parecchi libri nel cassetto quindi le persone quando lo pubblicava delle cose non dovevano aspettare diversi anni prima di sapere come andava avanti la storia ma magari qualche mese quindi pioniere self, fattore tempo, aveva parecchi libri già nel cassetto quarto punto altra cosa fondamentale che ha garantito il suo successo è stato il primo libro lo ha messo lui gratuitamente lui mi ha raccontato nella nostra intervista che all'inizio ha pubblicato gratuitamente un libro di spionaggio chiamato Phoenix che è un genere thriller e questo libro è stato una bomba specialmente per quel periodo il mercato in quel periodo che l'ha pubblicato cavallo tra 2011 e 2012 come dicevo era vuoto e un romanzo gratis ebbe una grossa eco Phoenix mi disse Stefano ebbe migliaia di download nel giro di poche settimane questo libro era un prodotto amatoriale lui mi disse che non aveva editing e la copertina addirittura era stata fatta da Stefano stesso ma ebbe comunque successo il secondo libro della serie lo mise in vendita e anche lì ebbe centinaia e poi migliaia di copie vi ricordo vendute in questo modo non solo download gratuiti ma vendute nel giro di pochi mesi Stefano capì e questo è quello che dice lui la potenza del fattore regalo dare qualcosa di promozionale alle persone per poi avere vendite dei libri successivi queste vendite gli permesso di essere contattato da quel signore di cui parlavamo nell'introduzione di Newton Copton per questo motivo quindi autore ibrido anche qui se vedete parto da quell'effetto a catena che ho accennato anche con Rita Carla Francesca Monticelli è una cosa che torna da cosa nasce cosa quindi ricordate Pioniere Self fattore tempo aveva parecchi libri nel cassetto e ha dato il suo primo libro senza problemi perché sapeva che ce ne aveva di più nel cassetto lo ha dato gratuitamente per fare in modo che il suo following crescesse a dismisura già all'inizio nella culla del periodo self ha fatto lo stesso poi non contento Stefano ha fatto lo stesso visto che aveva tanti libri nel cassetto anche con Noturnia è una serie quindi fantasy pubblicata dopo Phoenix ha seguito la stessa strategia dal 2012 al 2013 uscirono il primo, il secondo e il terzo libro di questa serie e al 2015 i primi 5 libri della sua serie sono 6 in totale avevano già venduto oltre 30.000 copie 30.000 copie voglio proprio che ci sia un momento di riflessione su questo numero questi fattori hanno portato a quel famoso numero che caratterizza le sue vendite vendite veramente molto importanti parliamo di decine di migliaia di copie altra cosa che voglio sottolineare questo altro numero non 30.000 parliamo di 110.000 110.000 ancora una volta un secondo di silenzio per far sedimentare la potenza la magnitudine di questo numero che cos'è questo 110.000 volte nocturnia il primo libro scusatemi della serie sua di fantasy è stato scaricato da ben 110.000 persone 110.000 persone il secondo libro della serie poi è stato comprato da circa 11.000 persone riflettete su questi numeri il fatto che lui avesse dato gratuitamente il primo libro e che ci fossero una percentuale di download così grande ha favorito poi l'inizio di queste vendite a catena che voi potete dire vabbè 1 su 10 più o meno però in realtà poi se si parte da numeri così grandi poi anche nelle vendite si va a finire con i decine di migliaia di vendite come abbiamo visto prima un'altra cosa che voglio sottolineare è che le copertine dopo che Stefano ha deciso che non poteva fare le copertine per conto suo insomma ha deciso di avverirsi di professionisti di esperti e le sue copertine ho visto la serie di fantasy che lui ha pubblicato sono davvero fatte molto molto bene lui mi ha spiegato come le ha fatte come le ha commissionate se volete sapere di più su questa cosa andate a vedere la mia intervista con Stefano quindi le copertine sono molto accattivanti che sappiamo essere molto importanti per autori indipendenti avere delle ottime copertine che accatturano attenzione altra cosa veramente importantissima che voglio sottolineare che non conosco nessuna storia di un autore self italiano che abbia fatto una cosa in genere è che Stefano è stato il primo su iTunes per quanto riguarda il suo genere ora che cosa voglio dire voglio raccontarvi l'esperienza su iTunes su questo store dell'Apple quindi di Stefano in quel periodo quindi stiamo ancora parlando nella fascia di periodica in cui il self-publishing in Italia era appena nato per pubblicare su iTunes quindi a quel tempo doveva avere un numero di previdenza americano come mi spiega Stefano questa era una barriera di accesso che Stefano ha scavalcato e quando si trovò dall'altra parte quindi si guardò attorno ha scavalcato questa barriera di accesso c'era solo lui non c'erano altre persone non aveva competitors ma aveva delle persone interessate ovviamente ai suoi libri quindi lui dice a questo proposito chi colpisce per primo colpisce due volte è vero e ci credo ha scaricato scavalcato questa barriera di accesso quindi avere quel numero di previdenza americano questo ha fatto in modo che per un certo periodo ora non più ovviamente perché ci sono gli aggregator tutti veramente possono pubblicare su iTunes ma in quel periodo Stefano Anciotti per quanto riguarda questo Dark Fantasy era l'unica persona che aveva a disposizione i suoi libri da dare da vendere ad altri un numero soltanto per farvi capire la potenza di questo approccio su iTunes i suoi libri di Stefano hanno 1700 recensioni ancora una volta numeri enormi 1700 recensioni non copie vendute recensioni questo significa che davvero è una prova per farvi capire che le persone avevano praticamente c'erano diverse persone interessate a comprare dei libri ma c'era soltanto praticamente lui che aveva un prodotto di qualità ed era pronto a quel tipo di mercato e questo ha fatto in modo che Stefano avesse questo volume di vendite e di download dei suoi libri su iTunes che ha favorito poi questo numero impressionante di 1600 recensioni quindi chi colpisce per primo colpisce due volte ricordatevi questo punto può essere il primo su iTunes un'altra cosa interessante che volevo sottolineare come ultimo punto è che Stefano promuove i suoi lavori creando concorsi con premi speciali sulla sua pagina Facebook e poi è il social media che lui utilizza di più e dà per esempio copie autografate e quindi uniche perché sono autografate o storie disponibili solo per i vincitori quindi lui che cosa fa? Crea dei concorsi magari su Facebook e dà delle copie cartacee autografate per mantenere alto l'interesse del suo following quindi dà cose uniche che non si possono comprare su internet non potete comprare su Amazon o su iTunes ci sono quindi anche questo qui è un elemento di particolare di specialità che caratterizza il suo modo di promuovere i suoi libri questo per quanto riguarda la mia analisi del successo di Stefano Lanciotti ci sono 850 miliardi di cose in più che Stefano mi ha detto nell'intervista che voi trovate nel link qui qui sotto che abbiamo fatto nel mio podcast credit crea lui mi parla anche della sua esperienza nel mercato anglosassone lui ha deciso di tradurre alcuni dei suoi libri e del perché non è stata un successo da questo punto di vista io vi lascio con questa piccola anticipazione se volete sapere di più sulla sua esperienza nel mercato anglosassone vi invito a guardare quella intervista quindi la prima risorsa che vi do ho a disposizione proprio la mia intervista sul podcast credit crea con Stefano Lanciotti un'altra intervista interessante che ha interessato Stefano è l'intervista su RTL 125 dell'ottobre del 2012 dove avete un altro momento temporale in cui Stefano stava parlando che ha diciamo così dà più informazione sul suo successo in quel periodo quindi nel periodo iniziale stiamo parlando del 2012 quindi 6 anni fa e passa anche e vi consiglio di andare a vedere queste risorse per quanto riguarda sapere di più sul perché Stefano Lanciotti è secondo me un successo per quanto riguarda il self publishing italiano ora questo conclude per ora questa mini serie che ho deciso di dare in cui ho deciso di dare questo spazio ai autori self alcuni autori self di successo ora sta a voi fatemi sapere se questa mini serie vi ha interessato se volete che analizzi altri autori indipendenti per darvi delle altre diciamo così perle di saggezza del perché sono particolari di cosa secondo il mio punto di vista ha garantito il loro successo fatemelo sapere qui sotto nei commenti lasciate migliaia di feedback commenti anche per quanto riguarda quello che avete sentito su Stefano Lanciotti se ci sono cose che voi avete fatto magari delle altre cose che vorreste dirmi avete provato ma non hanno avuto un certo tipo di scontro quindi fatemi sapere anche la vostra esperienza di autore self di scrittori e come sempre se non vi siete ancora iscritti al mio canale a youtube di credito in autostoria fatelo adesso mettete un mi piace noi ci vediamo il prossimo lunedì ciao 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 Grazie a tutti.